La Sicilia viene nuovamente declassata da Moody's, è notizia di oggi, è una notizia anche abbastanza preoccupante. Intervistato sulla materia, l'assessore all'economia Luca Bianchi riversa le responsabilità di questo nuovo declassamento sul precedente governo. Gaetano Armao, assessore all'economia del precedente governo, come stanno le cose secondo voi? Non so se Bianchi ha analizzato adeguatamente i dati di bilancio, non mi parla da quelle considerazioni che vengono fatte. Come abbiamo detto anche nei mesi scorsi al governo Crocetta, c'è un errore grave nelle entrate perché si è fatto un bilancio prevedendo un caro del PIL 0,5, mentre invece tutte le agenzie, tutti i centri studi, le fondazioni, Fondazione R.S., Fondazione Curella, Banca d'Italia, dando delle previsioni di un ribasso del PIL purtroppo del 2% quest'anno, quindi caderanno le entrate. Quattro volte in più. Quattro volte. Il bilancio che è stato approvato all'Assemblea, nonostante sia stato detto e segnalato, il bilancio che prevede una riduzione del PIL di un quarto rispetto a quello che ormai è certo sarà il minor PIL di quest'anno. Quindi evidentemente mancheranno delle entrate, ma siccome le agenzie queste cose le capiscono bene, questi artifici di bilancio non servono, servono forse a ingannare le persone, mentre invece le persone hanno bisogno di verità e realtà in un momento così difficile, se ne sono accorte e il downgrade è pesante. Abbiamo ridotto la spesa corrente di ben 5 miliardi, lo testimoniano i documenti del governo Crocetta. Il nostro governo ha ridotto la spesa di 5 miliardi, quindi non capisco come che oggi si ascriva a noi la responsabilità. La verità è un'altra. Che il governo Crocetta da quando è insediato ha fatto norme per i precari, norme di proroghe, norme di tutti i tipi, tranne che serie e drastiche riduzioni della spesa. Non le ha fatte come avrebbe dovuto farlo entro la fine del 2012, evitando così il disallineamento dei conti, perché il governo Monti appena si è insediato in tre giorni ha immediatamente messo mano alla borsa, cosa che non ha fatto il governo Crocetta che appena si è insediato ha pensato alle magnifiche sorti progressive del suo megafono. E lo stesso è avvenuto nel 2013, dove di fronte a una situazione finanziaria in peggioramento, sì ma ci si mette il prosciutto di fronte agli occhi, come usa dire un'espressione molto diffusa, e si è fatto finta che l'economia non andasse nel senso purtroppo peggiorativo in cui è stata. Il nostro debito dà un debito credibile, ancorché in difficoltà, è diventato un debito non più credibile, rischioso. Ecco cosa cambia, è un giudizio nei confronti della Sicilia e delle altre tre regioni iperindebitate che non riescono ad adottare misure serie, drastiche di contenimento della spesa.